Ciao, oggi presento la ricetta della crema al latte. Per la preparazione utilizzerò latte o eventualmente 50% di latte e 50% di panna fresca per ottenere un composto più cremoso, poi della fecola o maizena, zucchero semolato, cucchiaia di miele e una bacca di vaniglia. Come prima cosa diluisco la fecola con un po' di latte, mi raccomando freddo altrimenti si formano dei grumi e il restante latte lo mettono nella casserovola. Assieme alla vaniglia, allo zucchero e al miele. Poi faccio cuocere il tutto a fuoco basso fino a ebollizione. Una volta preso il bollore tolgo la vaniglia e aggiungo il latte con la fecola. trascorso un minuto la crema è addensata e ripreso il bollore, quindi è cotta. La tolgo dal fuoco e la lascio raffreddare in una ciotola coperta con un foglio di carta da forno per evitare che si formi la pellicina in superficie. Una volta fredda la si può utilizzare in tutti i dolci in sostituzione della crema plasticiera classica. Oppure aggiungendo 200-300 grammi di panna montata per farcire le torte. Grazie e alla prossima ricetta, ciao!